In occasione della giornata internazionale della donna, martedì 8 marzo alle 15.30, si svolgerà l'incontro Dalla Tua Parte, storie di donne di rinascita presso il CEF, passando nella Sala Papa Giovanni Paolo II. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e lo sportello antiviolenza della Crinissena. L'incontro si inserisce nell'ambito del progetto Dalla Tua Parte, promosso dall'Avvocato Federico Laverde, referente dello sportello antiviolenza della Croce Rossa di Caltanissetta ed è finalizzato alla creazione di una comunità alloggio che possa ospitare anche temporaneamente le donne vittime di violenza. L'incontro vuole essere un momento di riflessione contro la violenza sulle donne e di sensibilizzazione per l'attuazione dei protocolli di tutela e sicurezza. Un contributo fondamentale sarà dato dalle testimonianze dirette di donne che si sono ribellate ai sopprusi e ad ogni forma di maltrattamenti. Interverranno Roberto Sanfilippo, direttore generale del CEF, pass Chiara Armenia, prefetto di Caltanissetta, il sindaco Roberto Gambino, Matilde Siracusano, deputato nazionale, e Nicolò Piave, presidente del Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta. Alla tavola rotonda parteciperanno Federico Laverde, appunto l'Avvocato che è responsabile del progetto e referente dello sportello antiviolenza, e Chiara Benfante, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Emanuele Ricifari, coestore di Caltanissetta, Marcella Santino, direttore sanitario dell'ASP, Silvia Spanò, psicologa forense, e Don Giuseppe Alessi, cappellano della casa circondariale del capoluogo Nisseno. L'incontro sarà moderato da Ivana Baiunco.